Incidente stradale con un ferito non grave nelle prime ore della mattinata di oggi lungo la superstrada Fano Grosseto, nel tratto tra Lucrezia e Calcinelli in direzione Monte, teatro già in passato di disastrosi incidenti anche mortali e sempre per lo stesso motivo la mancanza della corsia di emergenza che costringe le auto in panne a fermarsi lungo la carreggiata schiacciati contro il guardrail. Anche questa volta per ragioni ancora da appurare ma probabilmente a causa di un'improvvisa avaria meccanica una Opel Corsa condotta da un uomo del posto non è riuscita a raggiungere la piazzola di sosta poco distante ed il suo conducente è stato costretto a fermarsi lungo la carreggiata. Fatalità ha voluto che esattamente come anche in passato in quell'istante è sopraggiunto un tir che non ha potuto fare nulla per evitare l'auto in sosta urtandola violentemente sul lato destro nel mezzo rendendo l'auto un ammasso di lamiere contorte. Il suo conducente è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto che lo ha portato al pronto soccorso di Fano per tutti gli accertamenti necessari. Sul posto per i rilievi di legge regolamentare la circolazione anche una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Cagli.